Sandro entra in casa dalla porta ancora aperta che richiude dietro di sé. Mike chiama. Poi si avvia verso l'unica stanza illuminata e lo trova seduto sul divano del salone con le braccia abbandonate lungo il corpo. Mike, ripete, che è successo? Raccontami tutto. C'è poco da raccontare. Lui che entra in casa, Filippo che non si trova e al suo posto un biglietto che dice Tuo figlio sta bene, non chiamare la polizia, ci facciamo vivi noi. Dobbiamo chiamare la polizia, dice Mike. No, è proprio quello che non dobbiamo fare, risponde Sandro. Hai letto qui? Continua rigirandosi il biglietto fra le mani. C'è scritto di non chiamarla. Chi se ne fotte di quello che c'è scritto? Hanno preso mio figlio. È importante invece, perché dice anche che Filippo sta bene, ma se è nelle mani di qualcuno, il fatto che continui a stare bene dipende da lui. E quindi che dovrei fare? Sperare che se ne prendano cura? È proprio questo il punto, dice Sandro. Tu ed Elide siete separati e Filippo è affidato a te. Cosa penserebbe la polizia? Diventeresti il primo sospettato, o se sei fortunato ti accuserebbero di non averlo tenuto d'occhio abbastanza. Pensaci, l'hai lasciato solo a casa, mentre tu te ne andavi a divertirti. Non è così che è andata, ma è così che la vedranno. Che ti aspetti da me? Che me ne resti qui con le mani in mano? Non ce ne staremo con le mani in mano. Intanto beviamo qualcosa. Si alza, va verso il carrello. Prende una bottiglia e un bicchiere. Grappa anche per te? Dice mentre versa. Sì, grazie, dice Mike. Bevono insieme. Dobbiamo trovarlo, dice Mike. Certo che dobbiamo trovarlo. Fa un altro sorso, poi domanda. Hai qualche idea? Chi potrebbe essere stato? Hai ricevuto delle minacce? No, nessuna minaccia. Non so che fare. L'uomo si mette la faccia tra le mani e scoppia a piangere. Ehi, Mike, dice l'altro mettendogli una mano sul braccio. Ti dico che lo troveremo, non abbatterti. Sappiamo che lui sta bene, no? Non so da dove cominciare, risponde l'altro con la voce ancora liquida. Ce l'ho io l'idea. Ma prima dimmi una cosa. Quando sono entrato, la porta era aperta. Perché? È così che l'ho trovata. Hai notato se l'hanno forzata? Non ci ho fatto caso, ma le chiavi non le ho più, me le hanno rubate. Sei sicuro di averle prese con te quando sei venuto alla festa? Sì, certo. Sono uscito di casa e ho chiuso la porta a chiave. C'era Filippo. L'hai chiuso dentro? Lui ha una sua copia, per le emergenze. Ah, dice Sandro, forse le hai perdute per strada. Non ho mai perso le chiavi in vita mia. Allora qualcuno te le ha rubate alla festa. Chi? Qualcuno che aspettava proprio quell'occasione. Che ti ha tenuto d'occhio e in qualche modo è riuscito ad accedere al tuo cappotto nel guardaroba. Fa una pausa. Poi riprende, tu sei arrivato alle nove e sei andato via più o meno a mezzanotte. Tre ore sono state sufficienti. Dici che è stato qualcuno del cast? O del catering? O del guardaroba stesso? Forse c'è un modo per scoprirlo. Quale? Andare da Patrizio. Affare che nemmeno c'era ieri alla festa. Sta a Roma, lo so. Rientra in mattinata, ma la villa è sua. E sono sicuro che è piena di telecamere. Gli chiediamo di farci vedere le registrazioni. Secondo me stiamo perdendo un sacco di tempo. Forse non è la strada più veloce, risponde Sandro. Ma è la più sicura. E se c'è un lusso che non possiamo permetterci, è quello di rischiare. Sei d'accordo? L'uomo annuisce. Bene, riprende Sandro. Allora il piano è questo. Manca poco alle due. Patrizio tornerà alle otto. Tu devi riposarti. Abbiamo bisogno di tutte le forze per risolvere questo problema. Come faccio a dormire? Non ci riuscirei comunque. Tu provaci lo stesso. Prendi una pastiglia. Una pastiglia non mi fa più niente ormai. E allora prendine due. Ascolta Mike, lasciami il telefono e vai a letto. Se ci sono novità ti avviso io. Anche tu dovresti riposare. Ma io non dormo mai, lo sai. Anche sul set, veglio sempre su di te. Sandro gli sorride. Si alza dal divano, gli lancia il telefono. Pensaci tu a svegliarmi. Dobbiamo stare a casa di Patrizio un minuto prima che arrivi. Non ti preoccupare. Ci penso io. Si addormenta senza nemmeno sfilarsi il cappotto. Ma il sonno chimico spesso non porta al ristoro. Il suo viene disturbato dal pensiero di Elide, sua moglie. La sua ex moglie, cioè. Ma niente di ciò che si lascia va mai del tutto via. E anche lei, come ogni cosa, era rimasta presente nella sua vita dopo il divorzio. Anche solo nelle telefonate in cui organizzavano gli incontri con Filippo, gli auguri di circostanza nelle festività per dare al ragazzo l'impressione che non tutto fosse definitivamente perduto. Ma il rapporto con Elide era stato da subito come un masso che rotola dalla cima del monte e che a mano a mano che scende, acquistando velocità, provoca sempre più danni. Discesa folle che era iniziata con il matrimonio. Non tutti dovrebbero sposarsi. Per quanto assurda possa sembrare la pretesa, dovrebbe sposarsi solamente chi ha già chiaro il concetto di matrimonio, sa a cosa si va incontro, ed è disposto ad assumersene la responsabilità perché è esattamente quello che vuole, e non è disposto a farne a meno. La maggior parte della gente si sposa invece perché eravamo fidanzati da tanti anni, o perché oramai era l'età giusta per avere un figlio, o per paura di rimanere da soli perché è così che hanno già fatto tutti gli amici. Per tutti i motivi che non hanno niente a che fare con l'unione a un'altra persona che il matrimonio dovrebbe rappresentare. Lui si era sposato perché gli sembrava il modo più elegante per portarsi Elide a vivere da lui. Erano grandi, lui aveva già una casa, un lavoro. In qualche modo gli era sembrato razionale non dover andare a prenderla e a riaccompagnarla dai suoi ogni volta che si vedevano. Non si era chiesto se fosse veramente quella giusta o come sarebbe cambiata la sua vita. Elide gli piaceva e poi gli aveva detto sì come se questo dimezzasse la responsabilità. Come a dire magari mi sbaglio, ma stai sbagliando anche tu. Semplicemente non aveva pensato ad altro. Eppure tutti si aspettano che, come per magia, il matrimonio porti con sé automaticamente un miglioramento nella propria vita. Si era accorto subito che le cose non stavano così. Ogni piccolo intoppo diventava uno scoglio. Il fatto che lui non prendesse sul serio le rimostranze di lei, per lo più a base di saponette, pantofole o abiti sporchi, la faceva imbestialire. Lui rimaneva incredulo di fronte a quelle obiezioni. Non riteneva possibile che due persone adulte le trasformassero in problemi. E non riconosceva più lei, la ragazza spensierata e allegra, capace di rendere tutto leggero con un solo colpo d'occhi. Lei non riconosceva lui, quello che si diceva pronto a tutto in nome dell'amore, e che adesso si rifiutava di prendere in considerazione l'idea non di costruire una reggia per lei, ma di sistemare un asciugamano per il verso giusto. E allora litigi e silenzi. Un periodo di separazione, poi uno di ricomposizione. Riproviamoci, era stata la parola d'ordine. Lì era nato Filippo, forse concepito come il motore di una gioia nuova, forse un modo per bruciarsi i ponti alle spalle. Ma Filippo non era abbastato a mettere a posto le cose, che anzi erano diventate ancora più complicate. Fare il padre non significa aprire il portafoglio al momento di pagare i pannolini, gli imputava lei. Essere madre, ribatteva lui, non significa smettere di essere moglie. Dopodiché, un po' alla volta, si era arrivati a quel punto in cui non si dovrebbe mai arrivare, dove ci si rassegna allo stato di fatto, e si perde la speranza che l'altro possa ancora ascoltare. Molti anni erano trascorsi così in una sostanziale indifferenza. Alla fine scoprirono insieme che ciò che non funziona difficilmente si assesta da solo, ma tende prima o poi a peggiorare fino a distruggersi del tutto. Lei aveva cominciato a bere. Dapprima vino, poi superalcolici, poi roba d'ogni genere. Più di una volta era capitato che, di ritorno a casa, la trovasse svenuta da qualche parte e Filippo, da solo, a giocare, dormire o piangere. «Sei un irresponsabile», le diceva. «Almeno io ci sto», rintuzzava lei. E lui sentiva che quello era troppo. Se il peso di doverla sopportare per casa, emusonita e ciondolante, era ancora sostenibile, non lo era quello di doversi far carico anche della madre, oltre che del figlio. Lì gli nacque l'idea di sbarazzarsene, ma non sapeva come. Una di quelle volte ebbe l'ispirazione. Invece di calmare il bambino che piangeva da solo nella sua stanzetta, chiamò un'ambulanza e ai medici che arrivarono descrisse un caso gravissimo e recidivo. Una volta in ospedale, parlando con il personale e approfittando della fama che cominciava ad avere che lo faceva sembrare affidabile, riuscì a ottenere che il ricovero durasse più del previsto. Giorni nei quali si affaccendò a estruire la pratica presso gli assistenti sociali, è incredibile quante porte si aprano al solo pronunciare un nome che tutti conoscono, e a convincere tutti che lei non era adatta a fare la madre. Non che l'avesse pianificato proprio in quei termini fin dall'inizio, ma, insomma, era lei quella che doveva andarsene. Filippo sarebbe rimasto con lui e anche una bella parte di soldi che altrimenti sarebbero finiti in alimenti. Una carognata cruda come poca. Lui si era giustificato dicendo che se l'era cercata, che non gli aveva dato alternativa, che non c'era più modo di andare avanti e che, in fin dei conti, Filippo era figlio suo quanto della madre. Ogni volta che ci ripensava, però, tutte quelle considerazioni sparivano e non gli rimaneva altro in mente che l'immagine del bastardo che era stato. Lo sapeva, ma quel che è fatto è fatto, si ripete, anche adesso, nel sonno, finché sente una voce che gli fa «Mike! Ehi, Mike!» Chi poteva essere? Non certo Elide. È una voce maschile, quella. Forse il dottore che l'aveva aiutato in ospedale, che una volta aveva provato a ricattarlo, ma che poi si era reso conto con le buone di trovarci sì dentro almeno quanto lui. Di chi è quella voce? Di Filippo? No, Filippo è ancora un bambino. Quella è la voce di un adulto. «Mike! Svegliati!» Che cosa dice lui aprendo gli occhi? Sveglia Mike. C'è Elide al telefono.